La tradizionale Sagra della Castagna Vicotronei compie 11 anni. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Circo Ronoi Convoi, nel tempo, è diventato un appuntamento, oltre che per i cittadini del posto, anche per quelli dei paesi limitrofi e non solo. Infatti, si stanno registrando numerose telefonate da gruppi e comitive provenienti da altre regioni interessati all'evento. Negli anni si è appuntato affinché questa manifestazione diventasse la festa di tutti. A tal proposito, molto sono le associazioni coinvolte, come la Proloco di Cotronei, il gruppo missionario Mamma e Margherita, l'Unità Alzi, l'Avis, l'Associazione Angolo 12, l'Associazione Mani Senza Frontiere, l'Associazione Diverso da Chi, così come di fondamentale importanza il patrocino del Comune di Cotronei e dell'Uncem Calabria. L'iniziativa si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 novembre. Durante la Sagra si potranno gustare caldo arrosto e crustole alla castagna, castagne bollite, menù caldo a base di castagne, panini, birra e vino. In uno dei tre giorni ci sarà il concerto di musica etnum popolare con Angela Bianco e di Castrum in quartet, che proporranno uno spettacolo all'insegna del divertimento e della buona musica tradizionale calabrese.